Domenica 5 marzo Si sono svolti i solenni festeggiamenti per i 50 anni della Costituzione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Sezione Fasano Alla presenza del Sindaco Francesco Zaccaria e del Comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud Ammiraglio Flavio Biaggi E' stata da prima deposta una corona al Monumento ai Caduti del Mare Alla presenza delle autorità civili e militari, oltre che del Vice Presidente Nazionale in rappresentanza del Presidente Nazionale Anmi Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Professor Donato Faringliulo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Ammiraglio Michele De Pinto e del Presidente di Gruppo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.